Terminate le operazioni di sbarco dei migranti dalla Oceans Viking, la nave umanitaria arrivata ad Ancona nel pomeriggio di lunedì, si tirano le fila dell'ottava operazione nel giro di poco più di un anno nel porto d'Orico. Una task force che ha impegnato la prefettura di Ancona insieme a protezione civile, vigili del fuoco, 50 volontari della Croce Rossa e naturalmente le forze dell'ordine. Le etnie più numerose sono Siria 124, Pakistan 56, 27 Egitto e 27 Mali. Poi ci sono altre 21 nazionalità sparse tra Asia e Medio Oriente o Africa e alla fine sono il 53% circa asiatici o medio orientali e il 47% circa africani. Tutto è andato liscio secondo quante le previsioni, un po' lungo tutto il percorso, l'identificazione eccetera durante tutta la notte, ma questo era ad aspettarselo visto il numero consistente degli arrivi. Le prefetture ci chiamano, ci indicano le esigenze e noi nel limite del possibile cerchiamo di portarla avanti. Anche in questo caso mi pare che sia stato fatto nel migliore dei modi. 42 il numero dei minori stranieri non accompagnati. Tra loro c'è anche un bambino di 9 anni proveniente dal Mali che è stato accolto in una comunità della CEIS ad Ancona. Una ragazzina e due ragazzi che hanno meno di 16 anni sono stati trasferiti in un centro a Matera, il resto, come era stato già annunciato, in strutture per minori nelle Marche. Complessivamente le operazioni di accoglienza, prima assistenza, identificazione presso il pala indoor dove sono stati effettuati anche accertamenti medici e l'imbarco dei 336 migranti su Pullman, diretta ai centri di destinazione, sono andati avanti tutta la notte. Adulti e nuclei familiari sono stati suddivisi tra Puglia, Lazio e Toscana. Tre persone, tra cui una donna incinta e un uomo con la febbre, sono stati trasportati all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti ma poi sono tornati al pala indoor. Fuori dal porto ieri pomeriggio anche un presidio di solidarietà organizzato da varie associazioni con cartelli e striscioni. Un viaggio non necessario denuncia SOS Mediterranei, troppo lontano dal luogo di salvataggio. Quattro giorni di navigazione che hanno provato ancora di più psicologicamente e mentalmente i naufraghi provenienti da 23 nazionalità differenti.